Musica E la Roma il diciottesimo Squacca il risultato Con il gol di Raja Naikolan Il dubbio dietro Adesso beneficio di Paredes Allora per Naikolan la botta E la Roma in avvantaggio Sono passati 12 minuti La firma è del capitolo Raja Naikolan Ma il dubbio rappia Dice un'area direttore Maikola Salaam controlla Limpianto per Gizzi Maikola Maikola E quanto partì la Roma A 1 dalla fine C'è Zorona in gol Stop e dentro Che gol Il vincita 3 a 0 La chiude la Roma Questo troccio c'è Gagliardini E' rientrato Naikolan Che esplode dentro Super gol di Naikolan E al dodicesimo La Roma in vantaggio La Roma in vantaggio La grande girata Di Raja Naikolan La Roma in vantaggio La Roma in vantaggio La Roma in vantaggio Giallo-Giallo-Rosso Porta la firma Di Raja Naikolan Secondo gol In campionato Anche per noi Take it easy Take it slow Take it slow And it up just like me For Take it slow And it up just like me E' un tipo di gol 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 Naikolan La doppietta del Ninja 2-0 Roma Al 56esimo Teleprotesto Dai Nerazzurri La Roma E' un tipo di gol Grazie a tutti.